Una volta da quando la pita la porta al bagno, stai morendo una volta Stavo a preciare la preci non to'n'aiuto Ah? Ah? Ah, non so Poi ce n'è? Perchè? Perchè? Se ne sta chiedono pico Perchè? 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 Ma pica, mi sentiamo qua stai qua Poi, perchè? Ah, perchè? 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 cellulare. Giovanni, è sicuro? Sì, tutto con ciò c'è per dire a metterlo, eh? Io non sto facendo. Puoi essere ancora, puoi essere ancora conosciuto a voi, è sicuro. Venga, io non ho. Puoi essere. Ciao, ma non fai scherzi, ma. No, puoi essere qui. No, puoi essere qui.